Ho visto durante questa settimana Maria Laura contro Mercedes e prima Maria Laura fa la carina con Mercedes e adesso Mercedes addirittura sceglie Luca al posto di Maria Laura Dite che allora ci mettete un po' di strategia e così ci siamo capiti, no? Ne posso spiegarmi? Ho avuto da ridire anche con Luca non è che le settimane precedenti sono state dimenticate ho avuto da ridire con entrambi ed era una scelta difficile però ho un debito con Maria Laura tutto qui Se posso, gladi io non ho mai salvato Mercedes pensando che lei mi salvasse qua se ho salvato Mercedes è perché mi sentivo di farlo indubbiamente abbiamo avuto delle incomprensioni ma non posso cancellare quello che c'è stato all'inizio tra me e lei sono umana, sarei un robot a cancellare tutto quello bello che c'è stato quindi mi sono sentita di salvarla perché io non credo più nel bene che lei dice che c'è stato ma volevo sdebitarmi tutto qui ok la fretta verità come facciamo io e Nicola li guardavo così c'è questi problemi grazie Grazie.